Si può? Chi è la? E' la? E' il patrone di casa? Cuscio sorcuso! Non chiuso! E' chiuso! Una parola! Sola! Sola! Affitto! Allà! Date una segna! Presto! Non ancora forrei! Se che a fornire! Grazie! Buongiorno! 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 E' l'ultimo trimestre! Con piacere! E quindi ancora un sorsat grazie! Occhiam alla sua sandrabe! All'elene vengo perché il trimestre sforzo Mi provizie! Provisie or vantello! Che fai? Sei capace! Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì.